accanto alla figura delle maestre e quindi delle donne impiegate nell'istruzione nelle scuole abbiamo un approfondimento legato alle impiegate e nel novecento le donne entrarono sempre di più nei ranghi del pubblico impiego però il loro lavoro era spesso caratterizzato da una grande precarietà abbiamo visto anche il caso di Teresita e in questa sezione abbiamo un approfondimento di opuscoli che riguardano la legislazione sul lavoro femminile e sulle donne nel pubblico impiego quindi molto interessante poi delle belle immagini tratte ad esempio dalla rivista del mensile del comune di bologna che mostra pubblicità di prodotti e attrezzature per l'ufficio ad esempio la macchina per scrivere è un elemento caratterizzante abbiamo per esempio un'altra immagine di uomini e donne al lavoro in un ufficio di datilografia datilografia diviene di fatto una mansione tipicamente femminile e un'altra immagine molto interessante è questa delle donne telefoniste nella centrale telefonica di bologna e nel testo si legge all'ufficio centrale le signorine operatrici quindi si parla di donne sedute ai loro posti di lavoro nei quadri di commutazione eseguono a mezzo dei appositi organi le operazioni necessarie a stabilire le comunicazioni richieste quindi c'era anche una rigida divisione tra mansioni femminili e maschili teresita dunque è un po' l'emblema di queste donne in quest'epoca dell'inizio del novecento le sue due vite sono un po' una transizione e un periodo di passaggio verso un lavoro più stabile più riconosciuto anche per le donne che si intreccia con la storia della nostra biblioteca e con proprio tracce ancora tangibili a partire dalla sua scrittura sulle schede del frati sorbelli che ancora possiamo vedere coi nostri occhi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti